Regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi Santa Madre di Dio. Preghiamo, o Dio, il cui figlio unigenito con la sua vita, morte e risurrezione ci ha meritato il Paradiso, ti preghiamo di concederci che, meditando questi misteri del Santo Rosario della Beata Vergine Maria, imitiamoli esempi in essi contenuti e otteniamo i premi che essi promettono. Per Cristo nostro Signore Preghiamo, secondo l'intenzione del Santo Padre Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Sanna e la mia mamma di Dio, che è la tua volontà, come in cielo, così in terra Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. 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 Proviamo il Salmo responsoriale. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Insieme. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Un'altra volta. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aclamate voi tutti al Signore. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci affatti siamo suoi, suo popolo e grece del suo poscolo. Aclamate al Signore. Voi tutti della terra e servitelo con gioia. Andate a lui con nessun tasso. Aclamate voi tutti al Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E grazie a tutti. Aclamate voi tutti i santi di alzare gli occhi verso questi nostri fratelli che già godono della gloria di Dio, i quali sono i nostri modelli e i nostri intercessori presso Dio. Chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati per essere tanti di partecipare a questi santi misteri. Confesso a Dio Onipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o missioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me, Signore Dio nostro. Signore Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca la vita eterna. Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre con te. Signore, Signore, figlio di genito Gesù Cristo, Signore Dio, maniera di Dio, figlio del Padre, perché togli i peccati del mondo, datti noi, togli i peccati del mondo, accogli la nostra subito, perché siena adesso a te, abiti e datti noi, perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore. Tu solo, Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare, non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose, vidi, ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, lingua, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce, la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli, Amen». Uno degli anziani, allora, si rivolse a me e disse «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi «Signore mio, tu lo sai» e lui «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore, insieme. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore, E il Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, e lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però, che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Leggiamo la grazia di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Alleluia, 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 alleluia. Il signore sia con voi. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sente della giustizia perché saranno saziati, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per la giustizia perché di essi è il regno dei cieli, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate perché è grande la vostra ricompensa nei cieli. La festa di tutti i santi dà l'occasione a tutti quanti noi di alzare un po' gli occhi verso il cielo, noi che siamo presi freneticamente da tanti impegni e da tante cose da assolvere e da tante attività, fino quasi a immergerci in tutto questo nostro mondo qui su questa terra, quasi dimenticando la vera patria, il luogo dove tutti dobbiamo arrivare. La prima lettura dell'Apocalisse ci ha mostrato questa visione dell'autore di questo libro ultimo della Bibbia, San Giovanni, una visione incredibile dove San Giovanni vede una moltitudine di persone presenti dinanzi al trono e all'agnello, cioè a Dio e a Gesù Cristo risorto, che cantano che la salvezza appartiene a Dio e testimoniano che loro sono lì dinanzi a Dio e all'agnello, grazie appunto a questa salvezza che hanno soffrito durante la vita terrena. Nella descrizione di questa visione San Giovanni parla di uomini vestiti in bianche vesti e che hanno in mano la palma. Queste parole che abbiamo ascoltato e ritrovate appunto nella Sacra Scrittura, in questo testo dell'Apocalisse, ci rimandano subito alle immagini che abbiamo dei nostri santi protettori, Cosma e Damiano. Tutti possiamo vedere che San Damiano ha una palma in mano. Ed è proprio l'immagine e la statua che ci richiama la realtà di coloro che sono già dinanzi a Dio, ma quella palma indica la grande tripulazione che hanno attraversato, come dice il libro dell'Apocalisse, Cioè, la loro vita è stata una donazione a Dio fino anche a morire per Dio e la palma del martirio. Questa visione dunque del cielo non ci allontana dagli impegni della terra. Non è che noi festeggiamo i santi per dimenticare tutto il dolore e tutta la sofferenza che possiamo sperimentare su questa vita, tutt'altro il contrario. Celebrando i santi noi ritroviamo il senso e il significato del dolore e della sofferenza. che nella misura in cui noi ci uniamo alla sofferenza e al martirio di Cristo, questa nostra stessa sofferenza e questo dolore della nostra vita acquista un senso, una preziosità. E' quasi un pegno di quello che ci aspetta se noi viviamo veramente in comunione con il Cristo, quando anche per noi ci sarà il momento in cui lasceremo questa terra per congiungerci al Signore insieme a tutti i santi e anche a questi nostri santi protettori che in questi due mesi, settembre e ottobre, abbiamo particolarmente venerati, li abbiamo pensati, a cui ci siamo rivolte con tante preghiere, ai quali abbiamo anche raccomandato tutti i nostri ammalati, tutti i nostri sofferenti, implorando da loro un aiuto, una protezione, ma anche implorando e vedendo in loro un modello di come anche noi dobbiamo vivere la nostra vita in comunione con il Cristo. La seconda lettura, San Giovanni, nella sua prima lettera scritta, diceva carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Noi fin d'ora siamo figli di Dio, continua San Giovanni, l'abbiamo ascoltato tutti, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato, non lo conosciamo. Ciò che saremo, come conseguenza di questo dono di essere figli di Dio, non soltanto chiamati, lo siamo realmente, ci dice San Giovanni. E allora, veramente questa festa mette dentro di noi quella luce dell'eternità che illumina anche il nostro cammino su questa terra. Sostiene anche il nostro cammino. Anzi, produce dentro di noi quella speranza che non è il frutto dei nostri pensieri, delle nostre volontà. È dono di Dio. E avendo questa speranza dentro di noi che è dono di Dio, e lo stesso San Giovanni che l'ha detto, noi ci purifichiamo. Noi, veramente, modifichiamo noi stessi, diamo il senso al nostro lavoro, al nostro cammino su questa terra, in attesa di essere con i nostri santi e con Dio stesso. Chiunque abbiamo ascoltato ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come è puro il Dio. E infine, abbiamo sentito la pagina delle piattitudini che costituiscono un po' il fondamento, la strada che Gesù ha tracciato per tutti coloro che vogliono diventare e che sono chiamati. Non è soltanto il desiderio singolare di una persona essere santo, ma siamo tutti chiamati in quanto figli di Dio che è santo a essere come Lui. E Gesù ha tracciato la strada, la strada delle piattitudini. Questa pagina del Vangelo di San Matteo che abbiamo ascoltato è la pagina che usualmente la proclamiamo, la ascoltiamo nella festa dei Santi Medici, vedendo appunto in questi nostri santi coloro che sono la scia di Cristo hanno vissuto questa realtà delle piattitudini. Ma poi un'altra pagina è una pagina che non soltanto noi che facciamo parte di questa chiesa, di questa parrocchia, l'abbiamo anche scolpita, quasi a dire che non la dobbiamo mai dimenticare. È scolpita nel portale di bronzo. Sono le otto piattitudini. Entrando in chiesa o guardando la chiesa quando passiamo davanti e magari le porte sono chiuse, è lì questa pagina, è dinanzi ai nostri occhi, quasi a ricordare. Quella pagina delle piattitudini scolpita nel portale ci indica, è come un segnale stradale, è la strada della santità, è la strada che ci porta ad essere autentici discepoli di Gesù. La festa di tutti i santi, dunque, è una festa molto bella, molto particolare, che ci rianima nella speranza e nel cammino dalla vita di fede di noi credenti in Gesù, ma è anche la festa che ci ricorda che gli uomini delle piattitudini sono coloro che vivono la propria vita non per se stesso e neanche a spesa degli altri. I santi non sono dei parassiti, non sono persone che si trascinano nella vita, i santi sono persone che donano la vita a Dio e ai fratelli per amore, come i santi medici. E su questo stile di vita siamo chiamati tutti quanti noi ad essere altrettanti santi come il Signore ci vuole. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e del terra. Tutte le cose visibili e in esiste. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Paolo e prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, la stessa sostanza del Paolo. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi, uomini, e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno la Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu cefisso per noi sotto Ponzio Milano, morì a fu sepporto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo sia la testa del Padre e di nuovo verrà nella gloria per tutti i cari in vivo e il suo regno non avrà figli. Credo nello Spirito Santo che il Signore è della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e l'ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa e una storica professa un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto alla selezione dei morti e la vita e il mondo che verrà a me. Fratelli e sorelle confortati dall'intercessione di Maria di tutti i Santi eleviamo con fiducia a Dio la nostra preghiera. Preghiamo con fede dicendo santifica la Tua Chiesa Signore. Santifica la Tua Chiesa Signore. Per la Santa Chiesa di Dio il Signore sostenga il nostro Papa Benedetto XVI i Vescovi i Presbiteri e i Diaconi perché con lo stesso amore di Cristo guidino il popolo di Dio verso l'eterna Gerusalemme del cielo. Preghiamo santifica la Tua Chiesa Signore per i religiosi e le religiose il Signore il Signore li confermi nella loro vocazione perché fedeli alla missione che hanno ricevuto mostrino al mondo l'amore di Dio che si dona a tutti senza nulla chiedere in cambio preghiamo santifica la Tua Chiesa Signore per tutti i fedeli laici il Signore sia la loro forza perché in ogni ambiente della vita quotidiana siano come il lievito nella pasta sorgente di santità e testimoni credibili della presenza e dell'azione di Dio preghiamo santifica la Tua Chiesa Signore per questa nostra assemblea eucaristica che unisce la terra al cielo il Signore accresca la nostra fede alimenti la nostra carità e conforti la nostra speranza perché nessuna fatica arresti il nostro cammino sulla strada dell'eterna salvezza preghiamo santifica la Tua Chiesa Signore noi ti rendiamo grazie Signore per averci dato la compagnia l'esempio dei Santi per la loro intercessione donaci la gioia di percorrere con l'audace della fede la via santa che dal fonte battesimale conduce alla Gerusalemme del cielo per Cristo nostro Signore Amen guarda questa per unirci a te nella tua messa la nostra messa nella tua la nostra vita la nostra nella tua messa la nostra messa nella tua vita la nostra pregate pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente signore ti siano graditi Signore i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi essi che già godono della tua vita immortale ci proteggano nel cammino verso di te per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi in alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo Dio Onnipotente e Eterno oggi ci dà la gioia di contemplare la città del cielo la Santa Gerusalemme che è nostra madre dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome verso la patria comune noi pellegrini sulla terra affrettiamo nella speranza il nostro cammino lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita per questo dono del tuo amore uniti all'immensa schiera degli angeli e dei santi cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode santo 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 è il signore dio dell'universo i cieli della terra sono pieni dell'acqua gloria osana 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 nell'alto dei cieli bene nel dopo a lui che viene nel nome del signore osana 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 nell'alto dei cieli padre veramente santo a te la lodi da ogni creatura per mezzo di Gesù Cristo tuo figlio è il nostro signore nella potenza dello spirito santo fai vivere santifichi l'universo e continuo a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto ora ti preghiamo umilmente manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo tuo figlio è il nostro signore che ci ha comandato di celebrare questi misteri nella notte in cui fu tradito egli prese il pane ti rese grazie con la preghiera di benedizione lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi dopo la cena allo stesso modo prese il calice ti rese grazie con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede mistero della fede nell'attesa della tua venuta nella presa della tua venuta celebrando le memoriali del tuo figlio morto per la nostra salvezza gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta ti offriamo padre in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo guarda con amore riconosci nell'offerta della tua chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio dona la pienezza dello spirito santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito egli faccia di noi un sacrificio perenni a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti con la beata Maria Vergine Madre di Dio con i tuoi santi apostoli i gloriosi martiri i santi martiri i padroni Cosme Damiano e tutti i santi nostri intercessori presso di te per questo sacrificio di riconciliazione dona padre pace e salvezza al mondo intero conferma nella fede nell'amore la tua chiesa pellegrina sulla terra il tuo servo è il nostro papa benedetto sedicesimo il nostro vescovo domenico il collegio episcopale tutto il clero e il popolo che tu hai redento ascolta la preghiera di questa famiglia che ha convocato la tua presenza ricongiungi a te padre misericordioso tutti i tuoi figli ovunque dispersi accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre la tua gloria in Cristo nostro Signore permesso il quale tuo Dio doni al mondo ogni bene per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ognuno e gloria per tutti i secoli dei secoli il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme Padre nostro che sei in cielo e sei in cielo venga il cuore e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento l'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo che ha detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà tu che viveregni nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi scambiatevi un segno di pace Agnello di Dio Agnello di Dio che toglie i peccati Amo Agnello che toglie i peccati Amo Beati gli invitati alla cena del Signore ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo Così che toglie i peccati di Dio che toglie i peccati Amo Agnello di Dio Amo Agnello di Dio Amo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Venite a me voi tutti, voi umili e depressi, venite Dio, vi ristorerò. Venite a me voi tutti, voi umili e depressi, venite Dio vi ristorerò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, dacci ancora del tuo pane, perché restiamo sempre uniti a te. Grazie a tutti. 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 E ora prima di concludere questa Santa Messa vogliamo ringraziare il Signore per il dono della festa dei Santi Medici che abbiamo potuto celebrare anche quest'anno in questo santuario. Vogliamo anche ringraziare il Signore per tutti i pellegrini che sono venuti in questo santuario, si sono riconciliati con il Signore, hanno avuto il dono della forza della fede proprio passando dinanzi all'estate dei Santi Marti di Cosimo e Damiano. E ora vogliamo dire una preghiera proprio di ringraziamento al Signore. Preghiamo insieme e diciamo, ti ringraziamo Signore. Anche quest'anno hai concesso alla nostra comunità la gioia di celebrare le meraviglie del tuo amore nei Santi Cosimo e Damiano. Con profonda gratitudine a te ti preghiamo. Per la grazia divina che hai donato ai cuori di tanti i tuoi figli che in questi giorni di festa si sono accostati al sacramento della riconciliazione, con gratitudine a te. Noi ti preghiamo. E ti ringraziamo Signore. Per aver illuminato il cammino di vita cristiano dei tuoi figli attraverso l'ascolto della tua parola, la tua parola di salvezza proclamata in questi giorni di festa, in questa chiesa, noi ti ringraziamo e ti preghiamo. E ti ringraziamo. Per aver chiamato tanti i tuoi figli a partecipare al banchetto del corpo e sangue del tuo figlio, nutrimento della nostra vita spirituale, farmaco di immortalità. Con gratitudine a te ti preghiamo. E ti ringraziamo. Per aver accolto le suppliche e le invocazioni di tanti i tuoi figli che per mezzo dell'intercessione di Santi Cosimo e Damiano hanno potuto sperimentare nella loro vita la tua benevolenza di padre che mai abbandona i suoi figli nel cammino doloroso dell'esistenza. Con gratitudine a te diciamo e ti preghiamo. E ti ringraziamo. Ora possiamo fare il canto finale, mentre appunto le statue vengono portate nella nicchia. Senti martiri a cui c'è no dei nostri corpi, in mani seguenti, il malo seccucce, nel dolore il tuo risulto, c'è no dei nostri corpi, l'arma mia a voi sentire. O quattro in buio, sogniamo allegre le nostre genere, che ne sortiamo alziamo la voce di un solo concerto ai santi medici di caldià alziamo la voce di un solo concerto ai santi medici di caldià se per voi i quali i seri è data via la sorte nella via e nella morte il vostro nome esulterà oh matrimudio sogniamo allegre le nostre cedre ed esulterà alziamo la voce di un solo concerto ai santi medici di caldià alziamo la voce di un solo concerto ai santi medici di caldià e dai piedi dei vostri altari che ti doni fare compiosi confidenti e percorosi tutti insieme insieme ci inchineremo oh matrimudio sogniamo allegre le nostre cedre ed esulterà alziamo la voce di un solo concerto ai santi medici di caldià alziamo la voce di un solo concerto ai santi medici di caldià ad una voce e non avviene l'asanti Entscheidung che accendendio Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è chi dice che la vita sia tristezza e sia dolore. Ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà. E quando in cielo risuonerà la tromba che ci chiamerà. Oh Signor come vorrei che ci fosse un posto per me. Il giorno che la terra e il cielo a nuova vita risorgeranno. Oh Signor come vorrei che ci fosse un posto per me. Grazie. 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 Grazie.